Comunque state ben ritrovati un saluto a tutti vi ricordo come sempre di commentare numerosi lasciare un bel like iscrivetevi qui attivate la campanella mi raccomando numerosissimi attenzione perché nella notte sono circolate alcune voci clamorose sulla possibilità di un cambio in panchina al minan dopo la quarta sconfitta su 9 siamo quasi al 50 per cento voci che questa mattina sembrano essersi placate ma non annullate del turno del tutto la sensazione è che davvero torni prepotentemente in discussione la figura di Fonseca con la società che ritiene che la squadra sia stata costruita bene che sia completa e competitiva segnali allarmanti le sconfitte la mancanza ieri di carattere di gioco per buoni tratti della partita il fatto incredibile del caso Rigori con Fonseca che dice il rigorista è Pulisic e lo tirano altri e lui che non riesce neanche a imporsi né all'intervallo né durante la gara è una squadra nervosa con Ternandez che perde la testa si fa anche spellere è una situazione che torna ripeto a essere nera nerissime in questa sosta ora se si farà un cambio credo che si sfrutterà ovviamente questi primi giorni di sosta la squadra adesso avrà due giorni di riposo perché stanca poi riprenderà gli allenamenti ecco se la società prenderà una decisione non facile sarà evidentemente tra oggi e domani segnalo che Terima aveva vinto il derby dopo due gare e poi è stato mandato via la sensazione è che Fonseca forse abbia pescato il jolly nel derby e che alla fine non sia quello di cui ha bisogno Jimena questo lo sapevamo già però forse ci eravamo illusi nel derby ditemi che ne pensate che cosa fareste con Fonseca se questa discussione deve portare a un esonero oppure una conferma vedremo se la società riuscirà a prendere questa decisione forte oppure no commentate lasciate un like iscrivetevi qui numerosissimi ci vediamo più tardi per altri aggiornamenti attenzione voci clamorose su Fonseca che torna in discussione un abbraccio e a dopo